franco franco casalone come ti possiamo descrivere io ho trovato dei termini online e quello che mi è piaciuto di più è antiproibizionista perché è una parola che mi piace molto diciamo che le proibizioni non sono in cima alla lista delle cose che mi fanno più piacere a parte in casi in cui sono necessarie però in questo caso parliamo di una cosa innocua come una pianta perché è una pianta una cosa innocua una cosa benefica che dava fastidio per tante cose gli hanno messo le catene l'hanno denigrata per cento anni perché ti sei innamorato di questa pianta perché ho visto che c'erano delle bugie sopra perché guarda quando io ho cominciato a usarla avevo 15 anni facevo atletica leggo mi informo su sulle cose sulle sostanze leggo che la cannabis può rallentare la visione del tempo ok io lanciavo il disco dico ok se mi vedo a rallentatore magari mi mi vedo meglio e riesco a coordinarmi meglio non è stato assolutamente così però come ho provato a assaggiare questa cosa effettivamente mi sono sentito meglio io mi sono sentito più più in pace con il mondo diciamo così in pace con il mondo ma sia come sollievo dal dolore del corpo ma anche come sollievo da dolori forse più difficili da vedere il dolore più difficile da vedere del non comprensione del perché del dolore per esempio cosa intendi il dolore è una cosa che non accetta nessun essere e il dolore nel mondo è una parte grossa ed è una parte che opprime tutti gli esseri in un modo abbastanza pesante e il dolore fa parte della vita quotidiana e se non ci fosse permetterebbe di gioire meglio di quello che è il mondo e il dolore può essere come hai detto tu di tantissime origini e ci sono modi nella storia che l'uomo ha trovato di alleviare questo dolore e uno di questi modi qual è? uno di questi modi la cannabis di per sé allevia il dolore del corpo e anche il dolore dello spirito quello che vi dicevo prima la cannabis aumenta stimola la produzione del THC stimola la formazione di dopamina la dopamina è deputata al senso di gratificazione e se mi sento gratificato anche il dolore mi dà molto meno fastidio e quindi se una cosa ti dà un sollievo e allevia il dolore che è un effetto che non vedo come possa essere considerato negativo in alcun modo come mai è così difficile accedervi? è difficile accederci perché per una serie di tabù che gli sono stati messi su sta pianta ti dico per più di cento anni perché fino agli inizi del novecento più o meno a questo nel 1920 cento anni fa esatti Valieri a Napoli apre un gabinetto di inalazione per gli asmatici allora si usava la canapa indiana che veniva da Calcutta e i sigarretti di canapa indiana per gli asmatici costavano due o tre lire che erano un prezzo caro per i tempi di allora e allora Valieri decide di provare a usare la canapa che cresce lì vicino spontanea? no, no, spontanea coltivata nelle tenute del conte Spinelli è vero, è storia e comincia a usarla nel suo ospedale nell'ospedale degli incurabili e anche suor Maria si è rese conto dell'utilità di questa medicina e anche lei collaborava si è messa a collaborare a preparare questi sigarretti anche se le donne preferivano la pipa eccetera eccetera era considerata una medicina qualche anno prima Arpino a Torino un medico di Torino scrive un libretto che è un formulario un ricettario per 48 malattie curabili con la cannabis e altre cose in composizione o almeno un dolore alleviabile che è già qualcosa sì, sì, no, ma lui è convinto della cosa fa una bella introduzione notizie estioriche, chimiche alla fine dice godetevi le volutà della sostanza e le fantasmagorie della cosa o chi è afflitto da dolori la usi per mitigare i suoi dolori però preparatevi bene il setting si direbbe oggi il luogo e preparatevi voi sappiate dove state andando che cosa state facendo informazioni e abbiate se ne volete fare un'esperienza non solo come allievi dei dolori ma un'esperienza abbiate cura di prepararvi un ambiente piacevole e davvero un'esperienza piacevole le persone hanno il diritto di avere esperienze le persone hanno necessità di avere esperienze le persone hanno necessità di cambiare stato di coscienza continuamente se no avrebbero dei problemi sarebbero classificate come con dei problemi mentali chi non cambia mai stato di coscienza ha dei problemi enormi anche gli animali hanno bisogno di cambiare stato di coscienza anche gli animali ricercano cose che li fanno cambiare alimenti, cibi ma se ho fame e mangio è cambiato il mio stato di coscienza immediatamente se questo bisogno è un diritto questa è una cosa su cui siamo d'accordo almeno io e te come mai non è un diritto riconosciuto dalla legge oggi? non è un diritto riconosciuto dalla legge ti dico perché sono state fatte e messe su tante bugie su questa pianta in questo caso parliamo della cannabis ma il diritto di cambiare stato di coscienza va esteso anche tutti quelli che sono i cosiddetti allucinogeni che non sono droghe d'abuso come può essere la cocaina come può essere l'eroina come può essere l'alcol come può essere il tabacco ma sono sostanze che ti permettono di sperimentare stati di coscienza diversi e quindi come mai fa paura perché alterare la coscienza il diverso fa paura perché alterare la coscienza con la canapa è illegale e alterare la coscienza con l'alcol non è illegale con la canapa è illegale con l'alcol è legale è legale non è illegale quindi come mai perché qual è la differenza perché uno stato deve permettere l'uso di alcol e non quello di canapa perché ipocrisia perché con l'alcol obnubli la coscienza con l'alcol vai a mettere una cappa sopra quello che è la tua capacità mentale l'effetto pesante dell'alcol è quello ma anche pericoloso a lungo termine la distrazione pericoloso per il corpo e la cosiddetta droga più pericolosa socialmente la maggior parte degli incidenti sono dovuti a abuso d'alcol quasi tutte le violenze domestiche sono dovute a abuso d'alcol quasi tutti gli atti criminosi sono compiuti sotto l'effetto di alcol quindi da dove nasce la convinzione che questa questa sostanza questa pianta perché è una pianta quello che fa anche un po' sorridere secondo me è una pianta fondamentalmente le piante sono innocue normalmente a parte quando sono velenose ma basta conoscerle questa pianta io ho scritto dei libri già 25 anni fa sulla cosa sul perché della proibizione avevo scritto che oltre a un fattore di controllo sociale come è nato e come si è mantenuto se fumi io ti tengo sotto controllo ancora adesso e non fai altre cazzate altre cose perché sai che comunque sei già tenuto sotto controllo che fumi questo gli serve tantissimo diciamo anche che al contrario di quanto viene detto se io uso cannabis sono più rispettoso di tutto e quindi faccio meno cazzate e comunque basta anche solo concentrarsi su un uso a casa propria oltre al concetto di controllo sociale c'è stata una grossa speculazione a livello economico perché per imporre certi materiali già 25 anni fa avevo scritto che la cannabis può essere sostituito del petrolio e su quello che erano stati gli studi fatti da Jack Harris ma già negli anni 70 il nostro Cesco Ciappan aveva fatto una serie di libri sulla cannabis in cui esaltava il valore economico non come sostituto del petrolio non l'aveva ancora scoperto ma come produttrice di carta di fibre di alta qualità la storia dell'uso in edilizia è stato riscoperto recentemente una trentina di anni fa da ponti fatti dai celti di materiali leggerissimi vanno a vedere a microscopio a scansione ma anche dal punto di vista capitalistico dal punto di vista del costo e dell'efficacia è estremamente interessante dal punto di vista del costo e dell'efficacia è estremamente interessante la cannapa può crescere ovunque a qualunque latitudine e quindi è impossibile avere un monopolio sul materiale anche se quelli che hanno la possibilità di fare investimenti enormi se facessero investimenti sulla cannapa li potrebbero ritornare perché potrebbero essere comunque quelli che forniscono la maggior parte dei materiali ci sono già esempi ci sarebbero mercati aperti per tutti puoi usare un mucchio di materiali alternativi e questo magari ha dato fastidio fino a un certo punto a qualcuno adesso che c'è necessità di trovare materiali alternativi a quelli prodotti dal petrolio soprattutto che si trova un po' impauriti anche quelli che erano contrari all'uso di materiali naturali adesso anche loro vedono che non ce n'è più neanche per loro e allora magari si interessano a usare anche quello che può essere una cosa molto interessante come la cannapa purtroppo in Italia è dal 98 sono 22 anni che si può ricoltivare la cannapa tranquillamente sembra che dobbiamo ancora partire perché non ci sono macchinari per la trasformazione io l'anno scorso avevo un campo qua e è rimasto in piedi perché nessuno è venuto a raccogliermelo ma come mai non inizia questo meccanismo cos'è che blocca questo meccanismo ha iniziato a singhiozzo e blocca per guarda ci sono motivi monopolistici che rallentano le cose e in Italia non ci si è mai riusciti a trovare d'accordo su niente figurati su una cosa del genere ci sono motivi di disinteresse da parte di uno stato che sappiamo dove siamo in tutti i paesi del mondo ci dicono l'Italia è il paese della mafia è governato da tale quindi ci sono degli interessi per non fare le cose e non per farle o per farle fatte male e se si fanno male poi si devono rifare e ci guadagno sopra vedi le strade vedi tutto quello che viene fatto in giro ma a te visto che parliamo di legge di stato e di come le regole che ci vengono imposte possono essere giuste o sbagliate in base alla propria idea a te personalmente cosa è successo recentemente ma a me recentemente e a distanza di ripetutamente negli anni da più di 40 anni ogni tanto mi arrivano le cosiddette forze dell'ordine a casa e io ho sempre detto che io fumo che io uso cannabis e adesso la coltivo la coltivo quella legale o l'uso terapeutico in farmacia non si trova un pochino per me anche di quella illegale me la coltivo sono venuti in casa con l'accusa che sto coltivando cannabis mi hanno portato via sia quella legale sia quella illegale dicendo che c'era la fabbrica della droga va bene per me è comunque una battaglia quindi se è successo a me è motivo di stimolo per andare avanti su sta cosa di più ancora mi scrivono che coltivo senza la prescritta autorizzazione quella illegale però intanto mi hanno portato via tutto e io sono abbastanza secondo te stavi facendo del male a qualcuno? io non stavo facendo del male a nessuno stavo lavorando la canapa legale e tutto documentato tutto scritto stavo coltivando sei piantine sul terrazzo per me non mi sembra di fare male anzi mi sembra di fare del bene al sistema sanitario da non chiedergli quello che per me è che io la ricetta è per 10 grammi al giorno se la dovesse andare a comprare in farmacia mi costerebbe 2.700 euro al mese che non mi posso permettere il sistema sanitario 10 grammi al giorno non me li vogliono passare perché sarebbe troppo e rimarrebbero le farmacie sprovviste per gli altri per carità non te lo chiedo neanche me lo faccio e tu me lo vieni a portare via allora vado a vedere e mi scrivono che coltivo senza la prescritta autorizzazione vado a vedere l'autorizzazione possono dare solo enti e imprese quindi avrei visto per la vendita ma per non la vendita non dovrei avere bisogno di nessuna autorizzazione però adesso io faccio un appello a tutti quelli che possono utilizzare la cannabis per uso terapeutico e che sono milioni in Italia secondo una ricerca indipendente di Google almeno 5 milioni di italiani potrebbero usufruire della cannabis terapeutica vuol dire anche solo un grammo al giorno a testa 1800 tonnellate all'anno il sistema sanitario l'anno scorso ha dato 900 chili si prevedeva poi per il covid fino adesso è tutto bloccato si prevedevano 1.6 quest'anno ma non ci saranno neanche una metà e quindi non c'è non si trova senza dare fastidio a nessuno me la faccio adesso che dicono così invito tutti quelli che sono in possesso di ricetta medica o che possono farsela fare che se la facciano fare di fare richiesta per autorizzazione a coltivare per uso personale terapeutico vista l'urgenza e la necessità proclamando uno stato di necessità e di urgenza vi invito a chiederlo ai vostri avvocati a chiederlo a chiunque legale possa essere interessato perché si tratta di un diritto come parlavi prima di diritti di un diritto civile umano cito anche della Costituzione l'articolo 32 diritto alla salute e quindi se è un comportamento che non ha nulla assolutamente nulla di lesivo verso nessuno non vedo perché debba essere castigato represso messo in silenzio messo non mi sembra un comportamento di uno stato che si dice democratico ma non lo è mai stato rispetto a questa sostanza purtroppo c'è ancora troppa ignoranza e troppo pregiudizio rispetto a questo ok infatti mi interessa molto a proposito dell'effetto terapeutico questo è un termine che tu lo ascolti e hai immediatamente l'idea di sapere esattamente cosa significa ma se ci pensi un attimo in più cosa significa effetto terapeutico se hai un dolore fisico è chiaro allevi al tuo dolore è un effetto terapeutico evidente ma ci sono anche dolori magari che di una persona non necessariamente ufficialmente malata di qualcosa ma stressata ansiosa o un momento della propria vita in cui le cose non vanno che è una cosa che capita a tutti che fa parte della vita in quei momenti perché una persona non dovrebbe avere il diritto in casa propria senza nuocere nessuno senza guidare in una stanza di lasciarsi andare un attimo godersi l'effetto di una sostanza come fa l'alcol che noi conosciamo tutti e farlo in libertà in privato per se stesso e stare meglio cosa ci impedisce oggi di poterlo fare perché sono molti anni che lo aspetto non sono giovanissimo e continuo a non vedere un passo avanti guarda ti ho detto tu 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 perché 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 te lo chiedo anch'io io sono 45 45 anni che batto la testa contro i muri che cerco di spiegargli le cose che cerco il primo libro che ho fatto nel 95 canapa benefici potenziale economico proibizione l'ho fatto da mandare in procura come memorie per il processo che mi dovevano fare ok poi è stata una cosa abbastanza ridicola perché il processo me l'hanno fatto io non mi sono neanche presentato è stato mi hanno dato una pena che rientravo nella condizionale è stato patteggiato tutto io ero scappato ero andato in Olanda è stato patteggiato tutto da di là e alla fine mi danno i documenti e mi dicono ci dicono a me e alla mia compagna potete fumare quello che volete potete andare dove volete basta che non la coltivate più perché una cosa che è così vuol dire la devi comprare noi ci guadagniamo ha senso ma ecco fatti parlando concretamente di come possiamo perché adesso l'intento ce l'abbiamo sappiamo che almeno io e te siamo d'accordo sul fatto che sia necessario poi se ne può discutere ma bisogna almeno parlarne confrontarsi con chi non è d'accordo cercare di tutti di capire meglio di cosa stiamo parlando fondamentalmente quindi concretamente se volessimo fare dei passi avanti in Italia senza aspettare della California facciamolo qui in Italia c'è una repressione su quella legale pesantissima quello che succede a me e all'ordine del giorno succede a tutti quelli che coltivano tantissimi di quelli che coltivano canapa legale o di quelli che la vendono negozi che li fanno chiudere che sono perfettamente legali in quello che fanno e li tengono chiusi tre, quattro, cinque mesi poi ah scusate erano tutti in regola e questo qua è rovinato e c'è una volontà dovevano mettere a posto queste leggi su quella legale perlomeno su quella industriale nel 242 c'è stata la volontà di non parlarne sono stati minacciati chi voleva parlarne se ne parla non approviamo neanche le altre leggi quello che a me dà molto fastidio è che in questo momento il dialogo sulla canapa a livello politico su canale 5 è a livello di la droga fa male si questo è quello che si la droga fa male come facciamo ad andare un po' avanti il livello è sempre stato questo dagli anni 70 in poi e io ho cominciato mi hai chiesto ho cominciato a occuparmi di questa cosa proprio perché ho visto che c'era una bugia la droga fa male ma questo fa bene poi c'era la bugia più grossa ancora droga leggera droga pesante in quegli anni lì e tantissimi sono caduti nella trappola se questo mi fa bene chissà l'altro come mi fa meglio in più fanno sparire il fumo l'erba delle piazze i primi anni 80 e si trova solo polveri non solo ma secondo me anche quando la sostanza è illegale l'erba è illegale se io vado a comprare illegalmente da uno spacciatore dell'erba trovo una persona che mi propone anche altre cose mi propone l'erba non c'è più ma c'è quest'altro ho delle eroine in quegli anni lì era più famosa l'eroina c'era già l'esperimento in Olanda che è cominciato nel 75 in Olanda i provos che erano anarchici hanno fatto una serie di proteste e la regina d'Olanda ha detto ok proviamo un modello di società un po' diverso in cui c'erano anche le leggi in Olanda che se qualunque azione porti un guadagno allo stato olandese non è da considerarsi reato era stata fatta per i pirati che lavoravano per la corona olandese e allora grazie a quello hanno fatto una serie di azioni che negli altri stati sono state considerate provocatorie aprire i bordelli aprire i coffee shop un modo di vita diremmo adesso più democratico più rispettoso di diritti umani e questa operazione in Olanda ha funzionato perché come ti dicevo prima in Olanda si è vero è tutto finto non c'era neanche la terra Amsterdam è un po' un pacco giochi è tutto a misura Amsterdam è un po' come Disneyland però è tutto a misura d'uomo c'è pochissima delinquenza c'è pochissima violenza se hai bisogno di pagare l'affitto grazie anche al fatto della cannabis senza fare niente a nessuno ti metti due lampad in casa fai un piccolo raccolto che vendi a coffee shop sotto e ti paghi l'affitto vai a fare la spesa senza rubare se vuoi vivere una vita modesta chiaro che se fai 500 kg per volta ti vengono a cercare con gli elicotteri perché stai guadagnando dei soldi senza pagare le tasse ma se lo stai c'è un modo però se lo fai per la tua sopravvivenza ti lasciano fare quello che vuoi ma se io voglio coltivare qualcosa per il mio uso io coltivo anche per il tuo uso personale nessuno ti dice niente ma anche farne un pochino in più e senza neanche andare a cercare gli scontrini e l'autorizzazione a coltivare se fai una quantità piccola in più come posso fare qua fino a 7000 euro di prodotti agricoli qua in campagna io posso venderli 7000 euro all'anno senza dover dichiarare niente a nessuno posso prendere una partita IVA anche agricolo senza tenere nessun registro nessuna fattura niente e fino a 7000 euro nessuno mi viene a controllare lo stesso puoi fare qua puoi fare 1000 litri di vino per uso familiare senza dire niente a nessuno se ne fai 3000 e non gli metti l'etichetta e lo vendi nel negozio nessuno ti viene a dire niente quindi dovrebbe essere esattamente la stessa cosa se io giro con una cassetta di pomodori sulla macchina e te ne porto con due cassette e te ne porto una cassetta a te nessuno mi viene a chiedere lo scontrino o la fattura se sono i miei pomodori e tu sei il mio amico se giro con un camion pieno di pomodori dove hai la fattura e dove hai la bolla di trasporto giustamente ma quindi c'è un modo adesso per far sì garantire e dovrebbe essere la stessa cosa è un prodotto vegetale come tutti gli altri appunto ma un modo per garantire legalmente alle persone di avere in casa propria la propria piantina per l'uso strettamente personale cosa possiamo fare quello che ho detto prima avere perlomeno la ricetta per uso terapeutico che più o meno per qualunque patologia ha riconosciuto la cosa in tutti gli stati dove l'hanno aperto è cominciato così prima per i malati che ne hanno più diritto per carità chiedere l'autorizzazione alla coltivazione per uso strettamente si chiede all'istituto al ministero della sanità per l'altro l'articolo 17 della legge 309 datevelo vedere fatevelo vedere intanto almeno alimentare la discussione pubblica parlarne è già qualcosa alimentare la discussione è già qualcosa ma non se ne vuole parlare la storia è questo tutti i media che sono poi praticamente in mano a due gruppi di potere non ne vogliono parlare perché ne hanno paura e quello che io ho detto ne parlavo con amici dicevo ma insomma hanno paura di perdere dei voti ma il 40% a questo punto quasi di quelli che non votano la maggior parte non votano perché non viene fatto quello che viene detto questa cosa qua se si aprisse questa cosa qua qualche milione di persone magari ti voterebbe sono magari il 15% di voti in più contro il 2-3% che magari vai a perdere che sono bigotti e pensano ancora che sia una droga e qualcuno mi ha detto sì ma in quel 2-3% c'è anche qualcuno che li finanzia ma perché c'è qualcuno che gli dà un mucchio di soldi perché come ti dicevo prima la storia che è del senso di gratificazione se io mi sento gratificato il mondo mi piace così com'è com'è fatto senza l'intervento dell'uomo non mi sento più obbligato a comprare delle cose inutili che mi dicono che mi servono per essere felice tu hai visto Fight Club hai visto Fight Club Fight Club è il tema simile secondo me dovresti vederlo ok poi ne parliamo la prossima volta ok ma a proposito di questo visto che secondo me è importante anche dire senza paura che l'effetto terapeutico anche per il proprio piacere personale di ascoltare una canzone e fumare una canna una canna adesso dobbiamo stare anche attenti a dire una canna però una canna è ascoltare una canzone è un piacere che non vedo perché mi deve essere impedito è giusto perché il piacere non è una cosa moralmente accettata dalla società bigotta perché questa paura del piacere perché la paura del piacere la paura del piacere viene da una posizione oscurantista della chiesa cattolica eccoli eccoli è estremamente la chiesa cattolica purtroppo è quello purtroppo quello che parlavamo prima quello lì dietro te di quella foto che esciva quale mi rimane l'hai visto? è uno di un film di fantascienza italiano una rarità ottimo bravo Gabriele bellissimo bella fotografia bella eccezionale con la lingua così è Calib ok non sono esperto ok però quello lì è il dio del piacere ma tutti gli dei indiani sono dei in cui il piacere viene esaltato il piacere fisico il piacere mentale il piacere di tutti i sensi perché non abbiamo il dio del dolore e non abbiamo il dio del piacere? perché bisogna allora perché se viviamo nel dolore teniamolo a testa bassa e speriamo viviamo nel disagio anche lì la politica invece di favorire il piacere favorisce il disagio perché se vivi nel disagio non hai tempo di pensare a stare bene a quello che ti fa stare bene quando già stare meglio quando già stai bene devi pensare a toglierti quel disagio certo e quello è una cosa sottile che però è una manipolazione delle menti e dei corpi una volta c'era la schiavitù adesso non si chiama più tale ma c'è un sistema che devi fare quello che ti dicono se no ti trovi in un disagio c'è una pressione sociale di sicuro quello che parlavi prima dell'effetto terapeutico scusami hai detto un antidolorifico ma ha una serie di effetti terapeutici questa pianta che sono da considerare in un modo profondo oltre all'effetto antidolorifico all'effetto antispastico che è importantissimo in tutti i casi di convulsioni soprattutto dovute a epilessia e soprattutto dovute a epilessia infantili e si è visto che funziona benissimo sta cosa diciamo che gli effetti sono provati scientificamente contro ogni dubbio ma hanno visto che funziona anche contro la proliferazione delle cellule tumorali dicono ci vogliono più studi intanto funziona allora l'importante è studiare l'informazione dare informazione alle persone su cos'è continuano a dire ci vogliono più studi ci sono 25.000 studi sulla cannabis attualmente di cui 24.000 e passa positivi e quelli negativi non sono mai stati replicati perché sono stati fatti e spesso e sovente erano studi di merda tipo quelli del dottor Nass che l'uso di cannabis succede alle cellule cerebrali prende una scimmia gli mette una maschera davanti e gli spara il fumo di 100 canne 100 sigarette rullate con cannabis tutti insieme per 5 minuti per 5 minuti al cervello di questa scimmia non arriva ossigeno arriva solo anidride carbonica e bruciano delle cellule ma anche a chiunque bruciano delle cellule anche se respiri il fumo di solo fumo senza aria sicuramente nella scienza oltre a vedere i dati magari pubblicati in un articolo dove c'è scritto questo è il risultato dell'esperimento e questa è la nuova verità scientifica sembra assicurarsi che l'esperimento sia condotto in modo scientifico ma il signor il signor giovanardi diceva che la cannabis brucia le cellule cerebrali e faceva vedere una tomografia computerizzata colori in cui si attivavano dopo l'uso di cannabis si attivano delle aree del cervello allora se uno della segatura ha paura che attivando si prenda fuoco ok perché se si attivano delle aree del cervello vuol dire che è una cosa positiva il secondo fa piacere dovrebbe essere una cosa positiva però attivandosi questo qua paura che si bruciano è perché ha una sostanza infiammabile nella testa probabilmente segatura ma anche se forse negativa comunque resta per me il diritto delle persone a fare cose negative io avevo fatto un articolo anni fa sui perché sono proibizionisti e dicevano non sono necessariamente cattivi probabilmente non gli funziona bene il sistema endocannabinoide il loro corpo non produce abbastanza cannabinoidi e i loro recettori non funzionano bene ogni cellula del nostro corpo può produrre endocannabinoidi ogni cellula del nostro corpo può ricevere cannabinoidi endo o fito hanno fatto degli esperimenti hanno bloccato il sistema endocannabinoide nei topi i recettori cannabinoidi nei topi prendere il topo nella gabbietta e spostarlo di 10 cm il topo impazziva perché il cambiamento gli faceva paura ok il sistema endocannabinoide è deputato anche ad accettare il cambiamento a modulare e a fare da frizione su tutto quello che succede e se non ci fosse moriremmo perché fa da frizione fra tutti gli organi fa da come si dice equilibrio fa funzionare l'equilibrio omeostatico di tutti i sistemi quindi produce una sensazione di benessere in ogni caso che tu stia bene o che tu stia male la ricerca della sensazione di benessere come dicevi tu prima è tuo diritto ma la ricerca della sensazione di benessere è sempre terapeutica visto che tu non hai vissuto solo in Italia ma anche in India mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di tuo che pensi che sia un'esperienza personale che o ce la dici tu o non esiste su un'altra parte un tuo punto di vista su come mai sei andato in India cosa hai trovato e che differenza hai visto rispetto a come viviamo noi sono andato in India le prime volte per vedere com'era l'India per vedere un altro mondo proprio un altro mondo un altro mondo un altro mondo un altro modo di intendere la vita un vero viaggio un vero viaggio partiamo appunto ad andare in un altro sono arrivato sono arrivato lì ho preso una abbiamo preso una moto un bullet usato Anfield 350 abbiamo fatto 12.000 km ah un impegno in sei mesi sei mesi la seconda volta ho preso un altro bullet ho fatto 10.000 km sono andati in altri posti che non erano andati e ho visto un mucchio di posti non turistici anche poi dopo qualche anno mi è successa questa storia che ti ho detto prima che siamo andati in Olanda e poi mi hanno proibito di coltivare io avevo questi semi questa collezione di semi collezione di semi da collezione per dargli una speranza di non morire andavo in Olanda andavo in Marocco andavo in India in India lì è sacro ok sono andati in India in sto posto che sono discendenti dei Greci e di Alessandro dove vivono isolati da 2500 anni vivevano fino a pochi anni fa dove il 100% della gente fanno questa cosa speciale dalle piante di canapa vive che lì crescono libere sulla montagna vengono anche coltivate negli ultimi anni ma era pieno di piante dappertutto e perché secondo te in India hanno una divinità del piacere e noi no? quello che dicevamo prima per la storia della Chiesa cattolica cattolica una stile diverso di religione perché devi devi stare male devi piangere devi accettare il dolore perché se non il dolore è una benedizione invece il piacere ti porta all'inferno esatto come mai? perché la cosa bella ti porta all'inferno e la cosa noiosa ti porta all'inferno? l'arimale delle religioni però la religione monoteista è il dio degli eserciti è il dio della guerra ma secondo me di religione sia bene che male si parla troppo poco e quindi male o bene sono male o bene poi si dice dopo parliamone le religioni naturali che poi era quella lì era quella delle forze della natura era quella delle potenze della conoscenza profonda la religione e l'alta filosofia quella che poi da noi è stata chiamata alchimia magia alla fine dicono le stesse cose la realizzazione dell'uomo superiore la pietra filosofale è quello che è l'identificazione con il principio creativo o con il principio primo ci sono delle somiglianze fra le religioni di tutto il pianeta che sono interessanti perché ti viene a pensare ogni tanto se un popolo che vive dall'altra parte senza alcun contatto arriva alle stesse conclusioni in certo senso anche la parte esoterica della religione cristiana è molto profonda e si avvicina molto alle religioni naturali come può essere l'induismo l'induismo comunque è una religione di quasi due miliardi di persone non sono pochi sono di più dei cristiani il cristianesimo è la religione più diffusa al mondo il cristianesimo è la religione più diffusa però siamo lì con gli hindu e con i musulmani uguale però cristiani i musulmani ebrei sono la stessa religione dello stesso libro e sono sicuramente sono 3.000 anni quasi che si massacrano l'uno con l'altro è quello è un po' il problema della religione che tante volte finisce così per mir espansionistiche potere per mir espansionistiche i romani hanno conquistato un impero rispettando le religioni degli altri tollerandole forse integrandole perché la loro religione era la stessa di quelle degli hindu con altri nomi una volta un bramino che sono quelli che studiano le scritture di casta alta quelli nati due volte in che senso ho fatto un articolo che senso ho fatto un articolo vuoi spiegare un attimo cosa vuol dire perché mi interessa due volte che senso due volte nasci due volte la seconda volta che nasci come uomo la prima invece cosa no la seconda volta che nasci come uomo perché sono due perché sono due perché la seconda volta puoi fare delle cose in più che non hai finito la prima hai dei meriti altissimi per essere uomo l'uomo è l'unico essere nella scala della creazione che può sfuggire alla ruota del tempo alla reincarnazione dici che può sfuggire può fare lui i mondi e gli dai no sai però se ci pensi razionalmente secondo me l'idea che gran parte secondo tutto di quello che è intorno determini con precisione il tuo futuro nel senso che tu puoi fare delle scelte ma sono molto meno efficaci di quello che è intorno e ti costringe ad andare in quella direzione nella vita e quindi ti viene da chiederti se tu hai libertà di scelta nella tua vita io se faccio una scelta la scelta è mia vera o è obbligata dalle ostanze e quindi vado in un destino predestinato allora se tu ci sei davvero ok se tu ci sei davvero e sei cosciente davvero di essere puoi fare una scelta cosa significa essere cosciente per il 99% del nostro tempo non siamo coscienti di essere quando è che siamo coscienti secondo te? in certi momenti in certi bagliori adesso descriverlo provaci dai non è una cosa descrivibile nel momento c'è il momento che sei cosciente di essere che ti senti di essere che ci arrivi con la pratica o ci arrivi per dono o ci arrivi per caso per carità non importa come non importa come è importante che ci sia il momento in cui sei cosciente di essere se sei cosciente di essere vuol dire che hai costruito qualcosa che sei costruito un centro normalmente non sei cosciente sei in balia delle cose se sei in balia delle cose non hai nessun potere decisionale una cosa che mi piacerebbe sapere tanto è allora non so se saprò spiegare bene questa cosa però la generazione mia o anche più giovane di me io ho 35 anni per dare un'idea trovo che abbia delle difficoltà da affrontare molto diverse da quelle che avevano le generazioni precedenti e quindi ci sentiamo un po' smarriti non abbiamo esempi da imitare su come comportarci oppure quando una persona che ha 20 anni più di te ti dice di andare a cercare lavoro e di trovarlo perché basta chiedere e non ha percezione di come si è automatizzato il meccanismo di ricerca del lavoro oggi di come sia difficile accedervi e di come tante volte accedervi voglio dire lavorare gratis o essere pagati con paghe da schiavitù che non ha alcun senso e non va accettato perché se lo accetti lo promuovi quindi cosa potresti consigliare a una persona che ha questo tipo di problemi dico questo perché l'ho già detto tante volte quando io ero ragazzo si pensava se uno ti dà un lavoro ti deve ringraziare esatto e invece adesso è esattamente l'opposto deve ringraziare chi ti dà un lavoro esatto è proprio così ma è una cosa fastidiosissima guarda l'odio è così è proprio così è proprio così sono riusciti a creare questo sono riusciti a crearvi nella vostra generazione nessun senso critico devi accettare tutto quello che ti viene detto perché la scienza quello che parlavamo prima è la depositaria della verità una bella merda no no aspetta però ecco questo aspetta no con rispetto però io sono un grande fan della scienza l'unica fede che ho è la scienza e quindi accetto anche le opinioni diverse la scienza cambia allora la scienza la vera scienza si mette continuamente in discussione certo è pronta a rivalutare quello che è stato detto continuamente mentre come viene imposta la cosa così è ed è dogmatico perché non conviene cioè l'educazione per interpretare quello che dice la scienza finanziariamente non conviene un cambiamento continuo la scienza ti dice non usare più il motore a combustione interna è obsoleto ha una resa bassissima ci sono dei motori che rendono molto di più però il mercato ti dice no lo dobbiamo usare ancora perché dobbiamo straguadagnarci ancora quella è colpa del mercato non della scienza in più la scienza sì non è quello però la scienza appoggia il mercato in questo senso è alimentata anche è alimentata dal mercato e quindi sono due cose che vanno in parallelo che dovrebbero essere distaccate e se fosse è vero che come dici tu una società in cui la scienza dovrebbe stabilire delle linee guida per il comportamento delle persone è abbastanza un'utopia e ti dico una cosa più che la scienza le linee guida dovrebbe stabilire il buon senso e però secondo me il buon senso deve partire della scienza quando è venuto fuori la plastica salviamo il pianeta sì sì ma la scienza quella è usata male salviamo il pianeta perché non si conoscevano le conseguenze quando sono usciti i primi pesticidi i contadini diamo la medicina perché se no viene brutto viene il raccolto brutto ne perdiamo e allora dobbiamo fare più raccolto perché se no ce lo pagano poco e però dobbiamo comprare anche il pesticida e la scienza produce il pesticida senza pensare alle conseguenze a lungo termine ok però secondo me la scienza si preoccupa di fare la scoperta senza pensare alle applicazioni deve solo avere la curiosità di sapere come le cose funzionano e le studia poi c'è chi invece investe e applica è lì il problema purtroppo c'è l'avidità e c'è chi investe e applica e c'è la volontà di eliminare i concorrenti come parlavamo prima per la cannabis certo la cannabis è stata un concorrente per le scoperte tante scoperte scientifiche del tempo e quindi è stata eliminata perché quelle erano scoperte scientifiche sì se la cosa come dici tu fosse slegata da quello che è una realtà economica potrebbe essere valida però ci sta il principio della scienza per me è molto nobile è una delle cose più nobili che l'uomo abbia mai scoperto la scienza sperimentare una cosa verificarla e poi accettarla solo quando è verificata in modo dimostrabile per me è una delle cose più nobili che l'umanità abbia mai ottenuto ci sono delle cose che non si possono verificare con ragionevole dubbio c'è sempre un ragionevole dubbio però una dimostrazione guarda tu che parlavi mi piacerebbe sapere di qua e di là hai mai fatto Li King cosa intendi no sinceramente no Li King è un libro di filosofia cinese un oracolo tu tiri le monete fai una domanda tiri le monete ti viene fuori un grafico un disegno che tu vai a vedere cosa corrisponde e ti risponde alla domanda che hai fatto è fisica quantica quello che sei tu e che è il mondo in quel momento lì che tu fai quella domanda e lui ti dice come devi comportarti perché ti vada bene quello che gli chiedi io non ascolterei funziona sempre io non ascolterei per te non è scienza però è una scienza di migliaia di anni che è stata codificata ma la dizione no è una scienza di migliaia di anni che è stata codificata che però la nostra scienza non ci arriva ancora e non arrivandoci non l'ammette come tale e la arroganza della scienza mi sono trovato a parlare di canapa con dei ricercatori Alessandri anni fa un momento gli do un pugno in bocca ma quella volta è abuso cioè lì non è scienza quella è una persona che comunica male allora quello che la scienza non riesce a comprendere lo classifica come superstizione come tradizione per adesso sì finché non lo dimostriamo però però non riesce a ammettere che c'è un'altra scienza che ci sono altre scienze magari superiori che vanno su un piano su cui non ti sei ancora non sei ancora stato capace o non hai avuto ancora il coraggio di avventurarti ma l'ignoto l'ignoto è pieno di possibilità però secondo me la scienza il termine scienza si riferisce a una cosa dimostrabile quando quelle cose saranno dimostrabili saranno scienza quella che chiamavano magia quello che non capivano li bruciavano quella è superstizione non è superstizione quello che non capiva la scienza del momento che era in mano alla chiesa ma quella non era scienza la scienza è sempre pura è sempre dimostrazione sperimentazione non è fede controllo nessun essere più nobile è curiosità di capire come le cose funzionano e dimostrarlo per non avere dubbi no? dimostrarlo per non avere dubbi ma farlo accettare questa dimostrazione quella però è la comunicazione che viene roba obbligare ad accettare questa dimostrazione obbligare è contro i diritti delle persone no obbligare no una dimostrazione che io posso fare nel senso che voglio tutti gli studi sulla cannabis negli anni passati sono stati fatti per dimostrare che in qualche modo faceva male ma sicuramente e poi vieneva fuori che faceva bene no ma gli studi non sono tutti con intento nobile anzi molti studi vengono fatti finanziati da qualcuno che vuole un determinato risultato e si fa di tutto per far venire quel risultato lo so però ci sono in generale come concetto la scienza nel suo senso generale è l'unica via da seguire chiamiamola conoscenza conoscenza è meglio che scienza acquisita con metodo scientifico per me allora il metodo scientifico è una limitazione delle possibilità limitazione no mi piace è riduttivo è riduttivo il metodo scientifico è riduttivo ti dico l'Iking tu non lo accetti l'Iking è basato su una scienza che tu non conosci ma il metodo scientifico toglie quello che non si può dimostrare e quindi toglie quello che è più probabile che sia sbagliato no ci sono delle cose che con il tuo metodo scientifico non sei capace a dimostrare un esempio la macchina che misura il dolore dovuto a spasticità nella sclerosi multipla con la macchina la cannabis non funziona però il paziente dice io ho meno spasmi sto meglio e ho meno dolore ma quello è verifica nell'altra quando io una volta dopo che ho usato la motosega tutto l'inverno non sentivo più bene vado in ospedale mi metto in una stanzina e mi dicono schiaccia il bottone quando senti un suono ok esco da questa stanzina e mi dicono signor Casaloni lei dice che non ci sente e la nostra macchina dice che ci sente benissimo noi crediamo alla macchina ma te la fa pianta che la tua scienza non è stata capace a dirmi perché io non sentivo bene la scienza è imperfetta però fa di tutto per andare avanti anche lentamente ma col metodo giusto per non sbagliarsi e io questo non è il metodo giusto perché perché non sai non sai non sai quale può essere il metodo giusto lo verifichi con l'esperimento lo verifichi continuamente ma l'esperimento è limitato devi avere certo ma i limiti vengono calcolati no i limiti non possono venire calcolati stimati ok stimati va bene però non c'è mai niente di preciso mai niente di perfetto io da piccolo io da piccolo ero convinto di questo se uno una persona un essere sapesse qualcosa davvero lo saprebbero tutti immediatamente e tu dici una comunicazione istantanea se sapessi qualcosa davvero lo saprebbero tutti immediatamente e sai che secondo me è proprio la mia esperienza è l'esatto opposto di quello cioè una delle cose che più mi disturba dell'esistenza è l'idea di essere una persona che sperimenta il mondo circostante solo attraverso i sensi quindi con dei segnali che vengono tradotti in pensiero ma comunque a distanza e di essere chiuso dentro questa testa e di non avere alcun modo di comunicare con altre persone se non tramite dei codici come il linguaggio e mi fa sentire molto solo dentro me stesso e questa cosa che stai dicendo tu che io non ho sperimento nella mia vita personale è l'esatto contrario cioè la comunicazione fra persone senza bisogno di discutere è quella parola lì che sarebbe nirvana nirvana non è l'assenza di tutte le sensazioni la totale assenza di esperienza sensibile è un'esperienza che va al di là di tutte le esperienze sensibili ma è un'esperienza che comprende non è non sentire niente come e se metti tutti i colori insieme li fai girare il vortico bianco non il nero sai una cosa queste discussioni in cui si parla liberamente magari dico potenzialmente no però potenzialmente sotto effetto di sostanze pericolosissime come la cannabis magari anche in questo momento ma probabilmente no magari anche in questo momento ti porta ad avere delle discussioni che a volte sono su cose che non sono su cui non siamo d'accordo su cose su cui siamo d'accordo ma quando si ascolta un punto di vista diverso dal tuo ma veramente essendo aperti accettandolo non giudicandolo la persona immediatamente perché quando cominci a parlare ti dice qualcosa su cui tu non sei d'accordo se ci sforziamo è una cosa di cui dobbiamo sforzarci perché non viene naturale se ti sforzi di accettare le opinioni diverse dalle tue e parli e discuti e non sei offensivo per quanto riguarda l'opinione opposta e presenti la tua in modo gentile elegante e preciso nasce una cosa fantastica che si chiama discussione che dovrebbe essere normalissima ma che invece io trovo molto ralamente nella mia vita e facendo così direi che ci siamo riusciti mi è vissuto veramente tanto e secondo me anche senza telecamere saremmo tutti meglio insieme se facessimo più discussioni di questo tipo con persone che non sono d'accordo con voi non stare chiusi tutti nella stessa camera di risonanza dove è un partito politico o una visione e tutto il resto è nemico confrontiamoci con chi è diverso ne parliamo e poi traiamo le conclusioni però riuscire a avere un momento di parola ancora riuscire a avere un momento di discussione come dici tu in modo tranquillo civile civile molto probabilmente quello che dicevi l'uso di aiuta può aiutare aiuta aiuta l'empatia la vita della pace aiuta il rispetto aiuta si chiama etica etica che da noi non viene segnata sai cos'è dobbiamo studiarla quasi quasi l'etica è rispetto dell'altro mi piace ok guarda io spero che addirittura ci potrà essere una seconda occasione per andare avanti parlare anche di altre cose perché il tempo è quello che è però questa era solo via puntata cosa dici come siamo andati allora prima volta in assoluto dacci un giudizio dacci un giudizio non lo so non l'ho visto devo vedere non l'ho visto è qui no come è venuto comunque direi che va benissimo si è stato bene io direi che andiamo bene allora a posto vediamo dove a che pubblico va questa cosa lo vediamo un giudizio